Ehi, non toccarla, non toccarla. Lascia la sua. Fuori, 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 fuori. Fuori, fuori, fuori. Fuori, fuori, fuori. Vattene via! Vattene via! Vattene via! Vattene via! Non lo può fare. Non lo può fare. Ma che lo suono? Perché lo suono! Ma che lo suono? C'è un po' di acqua! Ma c'è un po' di acqua! Gess, gess! Vergognati, vergognati, venduta, venduta, vieni qua di me, ma quale cazzo si vuole che vuole tu, ma vai la quale cazzo parere, un parere, un parere, un parere. Vieni qua, voglio che mi abbia ripreso, mi deve cancellare. Ma d'amore, cazzo si, mamma, ci cagate il cazzo. Devo uscire? Oh, devo uscire? Ci siamo? Devo uscire? Io sono una terremotata e sono tornata in Italia per fare il mio lavoro, sono tornata in Italia al Sud, perché il Sud prima di tutto ha segnato la possibilità di lavorare qui come artista. E come artista io sono tornata a Riace, perché Riace è stata una città che è stata in grado di proiettare le speranze di noi giovani che ce ne siamo andati, perché quelli come Salveni a noi ci hanno portato via, perché hanno trinciato la cultura. Viva l'Iverio, un grado. Io non c'entro niente con l'Iverio. Però diciamo, ma dobbiamo andare. Posso capire perché la stessa, posso capire perché la stessa, perché si può, possono essere, c'è delle reazioni. Ho capito, ma possiamo, vedi che succede? Perfetto, ho capito, ma le chiedo scusa, le chiedo scusa, le chiedo scusa, le chiedo scusa, le chiedo scusa. Andiamo, andiamo, andiamo. Scusate.